Buongiorno, ben trovati con il notiziario di prealpina.it che apriamo con la cronaca stroncato a Malpensa, un traffico internazionale di cocaina liquida. La droga viaggiava in bottiglie alimentari, due gli arresti. Sentiamo il servizio curato da Luca Spriano. La droga decollava dal Sud America e atterrava a Malpensa. Era contenuta in bottiglie e flaconi con l'etichetta di olio di cocco e sciroppo di agave. Era in realtà cocaina liquida. Il traffico internazionale di stupefacenti è stato smantellato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese che ha eseguito due arresti e sequestrato ben 7 chili di cocaina liquida. L'indagine è partita con l'arresto di un passeggero italiano proveniente da Montevideo in Uruguay, accusato di aver importato i 7 chili di coca nei già citati contenitori di bevande alimentari. Il prosieguo dell'attività investigativa coordinata dalla Procura di Busto Arsizio ha alzato il velo su un sodalizio criminoso nel quale spiccava un equadoregno già ricercato in ambito internazionale. Dai 7 chili sequestrati sarebbero state ricavate almeno 7 mila dosi di cocaina da immettere nel mercato dello spaccio. E spostiamoci a Varese dove questa mattina Comune, Provincia e Guardia di Finanza hanno sottoscritto un patto di legalità sulla destinazione dei fondi del PNRR. Vediamo l'intervista al sindaco Davide Galimberti, le immagini sono di Stefano Benveniù dell'Agenzia Blitz. Una delle prime iniziative in Lombardia, anche altri enti locali si stanno strutturando per a divenire a questo protocollo che garantisce una maggiore efficacia nell'attuazione e nella messa a terra dei fondi del PNRR e nella trasformazione delle nostre città, dei nostri territori. Quindi una garanzia di legalità per ovviamente gli enti locali e soprattutto un messaggio molto chiaro che arriva da questo territorio, da questa provincia, che vogliamo impiegare al meglio queste risorse affidandoci alla collaborazione della Guardia di Firenza per garantire la massima trasparenza e legalità. Tant'è che questo protocollo verrà legato a tutti gli atti, a tutti i contratti legati al PNRR. Restiamo a Varese per parlare dei bus delle linee urbane. Otto corse su dieci sono puntuali, ancora tanti i viaggiatori senza biglietto e tra questi anche viaggiatori, persone della Varese Bene. Sentiamo il servizio della redazione. I bus delle linee urbane di Varese rispettano gli orari. Otto su dieci sono infatti puntuali, dove la puntualità viene misurata con una tolleranza di cinque minuti. Questo è il dato relativo alle dodici linee che attraversano la città. Quello dove si registra minore puntualità è la linea E, da Viale Borri a Avigno, che è anche la più affollata e deve affrontare un percorso da un capoline all'altro con una decina di semafori e senza corsie preferenziali se non in centro. Capitolo incidenti. Solo 49 in un anno sulle linee cittadine. Un dato ritenuto molto soddisfacente. Per quanto riguarda le multe ai viaggiatori senza biglietto o abbonamento, i controlli sono incesivi e da autoline e varesine arriva un dato. Oltre 100 le multe quotidiane. Tra gli invasori anche viaggiatori, catalogabili nella categoria della Varese Bene. Da ultimo la sede dei bus in città dovrà traslocare dall'ex macello civico, oggetto di riqualificazione, e l'ipotesi più probabile è quella del trasferimento nell'ex sede Aspem in fondo a Via Vanetti. Mondiali di nuoto a Budapest. Dopo la trionfale impresa di ieri che valsa la medaglia d'oro nei 100 rana, Nicolò Martinenghi è tornato in vasca questa mattina vicendo la batteria dei 50. Sentiamo i particolari nel servizio di Luca Spriano. È un'emozione allucinante. Ha commentato così Nicolò Martinenghi, la straordinaria impresa compiuta nella prima serata di ieri ai campionati mondiali di nuoto in corso a Budapest. L'Azzatese ha vinto il titolo iridato nei 100 rana al termine di una gara perfetta, entusiasmante, e questa mattina è tornato in vasca in Ungheria ancora da protagonista. Primo posto nella batteria dei 50 rana con il tempo di 26 secondi e 68 centesimi. Prossima tappa la semifinale, appuntamento sempre oggi dopo le 18. Sul capolavoro di ieri intanto Martinenghi sottolinea come la concentrazione e la determinazione siano state risolutive per il successo. Il 22enne non nasconde la gioia per aver messo in pratica tutto quello che ho imparato in questi anni le sue parole. Il tempo che gli è valso il titolo mondiale sui 100 rana, 58 secondi e 26 centesimi, è il nuovo record italiano e il quarto di sempre nella specialità. E chiudiamo parlando di Rockstar. I Rolling Stones sono sbarcati a Malpensa e è atterrato il loro Boeing 767 con il logo Stones. Si esibiranno in concerto domani sera allo Stadio San Siro. Sentiamo il servizio curato da Veronica De Rio. La linguaccia più famosa del rock è la star di Malpensa. Il Boeing 767 con il logo e la scritta Stones è atterrato ieri, domenica 19 giugno, allo scalo internazionale. I Rolling Stones sono arrivati in Italia per il concerto di San Siro domani 21 giugno. Mickie Jagger e i compagni sono scesi nei pressi del Terminal 2, lontani dal traffico passeggeri e dai riflettori, con il massimo della sicurezza in cordone di polizia. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.